Musica Buon pomeriggio, bentrovati all'appuntamento con l'edizione Flash del telegiornale di Teletruria. Cominciamo con un'importante novità, è cominciata oggi la campagna vaccinale con Pfizer anche nelle farmacie. Risposta molto buona degli aretini, in alcune farmacie aderenti si superano già le 80 prenotazioni. Da oggi è possibile vaccinarsi anche nelle farmacie con Pfizer, una battaglia che anche la Federfarmarezzo ha portato avanti. E' la svolta decisiva per questa campagna vaccinale stesa alle farmacie? Sì, siamo soddisfatti del risultato perché la campagna vaccinale che era partita nel primo tempo con il vaccino Johnson & Johnson, che era per le persone che avevano più di 60 anni, si era un attimino arenata e quindi noi avevamo proposto con forza alla regione di poter avere il vaccino Pfizer e quindi da oggi, che è il 10 di agosto, le 56 farmacie, perché di tanto si parla, un grosso risultato, il 58%, potranno avere a disposizione il vaccino Pfizer per poter programmare le sedute vaccinali. Quindi come stanno andando con le prenotazioni? In alcune farmacie sono molto consistenti, tant'è vero che anche la dose che ci viene fornita dalla regione di 4 fraconcini alla settimana, che sarebbero poi 24 inoculazioni, quindi dosi di vaccino, comincia, se così andranno le cose, a essere insufficienti. Per cui richiederemo anche eventualmente un rinforzo della fornitura da parte della regione. Noi speriamo che possiamo dare un forte contributo a quello che dovranno fare anche logicamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta che insieme a noi dovranno vaccinare la maggior parte della popolazione. Come stanno andando queste vaccinazioni? Allora, si è riscontrato un discreto interesse da parte della popolazione, ben felice di venire in farmacia, un po' per la fiducia che ci siamo guadagnati nel tempo, un po' per la disponibilità anche nell'individuare l'orario più adatto e siamo contenti di questa iniziativa, di poter dare il nostro contributo. Cambiamo argomento, rovina i raccolti e resiste anche a specifici trattamenti. La cimice asiatica sta mettendo in ginocchio gli agricoltori della Valdichiana, creando ingenti danni. La problematica è arrivata anche in Consiglio regionale. Sentiamo. È un insetto alieno che non ha predatori, sicuramente è stato importato inavvertitamente con il lavoro dei container, gli aerei, tutto questo avanti e indietro che c'è nella globalizzazione. È un insetto che si nutre di 300 specie diverse di vegetali. Cresce la preoccupazione per la cimice asiatica che sta arrecando danni ingenti alle colture locali della Valdichiana, in particolar modo nelle zone di Civitella e Monte San Savino. L'insetto rende irrecuperabile il frutto sul quale si deposita. Succhia la polpa della frutta, la frutta lì rimane senza succo e al di sotto come si sbuccia c'è tipo una specie di sughero, proprio si vede la polpa che è disidratata dai propri liquidi. È un problema, noi chiediamo un aiuto alla regione, un aiuto allo Stato italiano, affinché riescano a lanciare l'antagonista che è la Vespa Samurai. Dice, è aliena anche la Vespa Samurai, però questa non la combattiamo con niente. Un ulteriore flagello per gli agricoltori della Valdichiana, sono già duramente colpiti dalla gelata di aprile e dal problema della siccità che sta interessando le zone di Castiglion, Fiorentino e Broglio. Sul tema della cimice asiatica è intervenuto a Palazzo del Pegaso il consigliere regionale della Lega, Marco Casucci, che ha predisposto un'interrogazione con la quale sollecita il governo a prevedere idonee dotazioni finanziarie. Noi abbiamo chiesto non solo di trovare le soluzioni contro questa veramente grave forma di danno per l'agricoltura, ma anche di trovare le forme legittime e doverose di ristoro, perché i nostri agricoltori davvero non ce la fanno più a resistere a tutto quello che hanno subito negli ultimi tempi. Infine, l'appello alle istituzioni da parte degli agricoltori. Mettete in quarantena container, tutte certe strutture che vengono da certi paesi per evitare questi seri problemi. Questo non c'è venuto con le ali da solo. Le sedi della CGL nella provincia di Arezzo rimarranno chiuse fino a ferragosto e riapriranno lunedì 16 agosto per una settimana e cioè fino a lunedì 23 agosto per questioni organizzative legate alla pandemia. I servizi e in particolare il patronato Inca avranno comunque una riduzione delle normali attività. Si comincia a parlare della prossima vendemmia e si guarda con interesse alla maturazione delle uve dalla cantina dei vini tipici dell'Aretino. Arriva un primo report sulla stagione vitivinicola. Al ridosso dell'inizio della vendemmia la situazione del vigneto italiano appare buona. Lo riporta il consueto report annuale congiunto di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini diffuso dalla cantina dei vini tipici dell'Aretino di Ponteachiani. La fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media al sud mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-9 giorni al nord ritardi che sono il frutto delle anomalie termiche negative registrate nei mesi di aprile e maggio. In Toscana gli ultimi mesi del 2020 e primi mesi del 2021 hanno fatto registrare piogge abbondanti che hanno dotato i vigneti di un'ottima riserva idrica iniziale. La seconda metà di aprile ha portato con sé un brusco abbassamento delle temperature con fenomeni di gelate intensi che hanno colpito i fondi valle e i vigneti al di sotto dei 100 metri. Con il ritorno del caldo del mese di maggio la vite ha potuto svilupparsi con un buon vigore recuperando il ritardo di sviluppo dovuto alle gelate tardive. Il clima sereno dei mesi di maggio e giugno ha limitato lo sviluppo di malattie e la presenza di importanti riserve idriche invernali ha permesso una buona crescita degli acini. Le previsioni sono dunque quelle di una vendemmia in linea con il periodo. Ora parliamo di un'antica tradizione quella del pellegrinaggio dei fedeli di Castiglio in Fiorentino alla Madonna del Transito di Canoscio che si è rinnovata anche quest'anno. Sono giorni importanti, sono giorni di avvicinamento alla festa del 15 agosto che ha un profondo significato religioso perché la Madonna è una figura viva e presente molto venerata qui. la Madonna del Transito che richiama fedeli da tutta la zona. È un luogo questo di Canoscio al quale sono legate le nostre popolazioni sia dell'Alta Umbria fino al Lago Trasimeno e anche tutta la zona toscana. Perché questo grande collegamento con Castiglion-Fiorentino c'è sempre questa messa, questo momento di riflessione con la cittadina della Val di Chiana. Quando il 15 di agosto padre Luigi Piccardini nel 1854 predicava la novena dell'assunta qui a Canoscio e lanciò l'idea di costruire una chiesa più grande un santuario in onore della Madonna uno di Castiglioni lanciò mezzo Francescone sul pulpito all'aperto dove padre Luigi Piccardini predicava e quindi potremmo dire è stata la prima offerta e questo legame si è mantenuto e speriamo di mantenerlo e di rafforzarlo anche sempre di più. Proprio in questi due anni di pandemia direi anche in modo straordinariamente bello ho registrato un aumento di pellegrini di Castiglion-Fiorentino che si sono avvicinati al santuario probabilmente anche perché questa devozione mista a un sentimento di riconoscenza di gratitudine in un luogo che forse i castiglioni sentono anche casa propria perché probabilmente è questo tra i principali benefattori del santuario la storia di Ciri sono stati i castiglionesi quindi evidentemente questo sconfinamento nella vicina Umbria riempie anche l'estate castiglionese in particolare il 15 d'agosto dove è la festa della Madonna del Transito di Canoscia. Una mostra permanente che permette di scoprire il territorio della frazione di Marcena a confine tra Arezzo e Subbiano vediamo di cosa si tratta. Marcenando l'arte camminando una iniziativa che parte proprio da Marcena che cos'è Marcenando? Marcenando è un'iniziativa nata da un gruppo di paesani amici che gravitano intorno al circolo del paese che ha pensato durante il periodo del lockdown di creare appunto un gruppo su un famoso social media che si chiama Amici a chilometro zero dove comunque è rimasta in contatto e ha sviluppato le idee che comunque venivano anche portate avanti in era pre-covid per valorizzare il nostro paese e comunque l'amicizia che ci lega. Un grande contenitore di arte a cielo aperto è naturalmente una mostra permanente per gli artisti che vorranno partecipare a questa iniziativa tutte le arti sono accettate? Tutte le arti sono accettate purché siano donate spontaneamente dagli artisti e possono essere opere diciamo in materia oppure anche opere di intelletto come poesie, canzoni la mostra permanente sarà inaugurata il 19 di settembre. Quando potranno essere naturalmente consegnate queste opere d'arte? Entro quando? Noi ci siamo dati un timing per organizzare un po' anche le location dove verranno esposte le opere per la fine di agosto. Abbiamo creato una pagina Facebook dove sarà possibile contattare Sabina e comunque anche gli altri paesani del gruppo per prendere informazioni per donare opere o eventualmente dare anche la disponibilità a visitarle. In chiusura diamo uno sguardo ai programmi di questa sera all'interno del nostro palinsesto subito dopo il Tg delle 20.30 9.10 in questa puntata un reportage di Barbara Perissi sul Castiglioni Film Festival 2021 seguirà Ben Godi con Alex Revelli Sorini e Roberto Francini subito dopo cronache e commenti settimanale di informazione sull'attività della giunta regionale toscana. È tutto per il nostro Tg Flash grazie a tutti voi per l'attenzione un buon proseguimento su Teletruria. Grazie a tutti! Grazie a tutti!